Che cosa le hanno fatto? L'ha avvelenata con una lucinogeno psicotropo. È una tossina che induce al panico. La porto giù, c'è un medico. Lui non può aiutarla, ma io sì. Scendi con lei e aspettami nel vicolo. Uscirò da lì. Crane ha importato la tossina insieme alla droga di Falcone e l'ha riversata nella rete idrica. Oh no. Cosa hai in mente? Non lo so. Crane non lavorava per Falcone. Parlava di qualcun altro. Forse peggiore. Devo darle l'antidoto prima che il danno diventi permanente. Quanto tempo resta? Non molto. Ma che cos'è? Sono i rinforzi. Ma che diavolo? 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 Scusate mi.